E' una forte emozione, una raguola di sindaco di Valle Paese. Sono immensamente orgoglioso del compito che voi cittadini mi avete affidato e mi ringrazio di voi. Avete dato fiducia al ragazzino, come quello che qualcuno mi definiva. Mi assicuro che mai, come in questo momento, sento forte la responsabilità e il compito che mi avete affidato. Con emozioni e impegno mi ammio quindi a guidare questo punto. Con questa prima seduta del Consiglio si insiede alla nuova amministrazione. Sono onorato di guidare una strada poesa, pronta ad affrontare le nuove sedute. Una strada formata da giovani, perché dai giovani vengono ieri, ma dal meno giovani vengono i Consigli. Da oggi cercheremo di svoltare qua. Nel porcere un regrazzamento a tutti coloro che mi hanno guidato questo importante e impegnativo in capito, voglio rivolgere un saluto e un ringraziamento dall'ex sindaco Serra di Pantone, che in questi 15 anni ha guidato l'amministrazione comunale. Un saluto carico di stima, di espresso e di amicizia. Ci ha la sua sede. A me tutti auguro un buon lavoro, dal cuore compassione, impegno e legge.